Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, dopo tanto tempo torniamo al mito mesopotamico so che me ne pentirò ma ci torniamo finalmente per fare un pochettino di chiarezza su un argomento che in realtà un po' tutti prendiamo troppo sotto gamba e che in realtà è molto più complesso di quello che sembra oggi torniamo in quel della Mesopotamia per scoprire chi sono veramente gli Anunnaki bando alle ciance e sigla! Prima di cominciare vi ricordo che ho scritto due libri e l'ultimo di questi, il secondo capitolo della quadrilogia del crepuscolo Il dovere di Ade, è appena uscito, trovate in descrizione il link per recuperarlo sia in formato Kindle che cartaceo su Amazon e se avete voglia, quando vi arriva il pacchetto con il libro nuovo nuovo oppure quando comprate delle versioni Kindle fatevi una foto da mettere nelle storie di Instagram così magari io la ricondivido e facciamo circolare un pochettino la voce perché a me fa piacere sapere che l'avete acquistato e ovviamente aiuta a fare pubblicità gratis al canale, al libro eccetera eccetera quindi tutto guadagno in realtà senza spendere ulteriori soldi quindi dai! E lasciate delle recensioni mi raccomando poi vi ricordo che in descrizione c'è il link per il mio canale Twitch, per tutte quante le pagine social per le pagine in cui donare qualche soldi in più tipo diventando Patreon per lo store di Cronaca di Topolinia e in uscita a novembre il nuovo numero di Sortisia scritto da me Sortisia dell'Oscura numero 3 squadra dei Cida lo store delle magliette del canale è lo store di Pampling, codice sconto, Grivit per avere il 20% di cashback e un paio di calze in omaggio quando fate acquisti su questo store sconfinato di magliette con grafiche a tema nerd detto questo ragazzi, senza ulteriori indugi, incominciamo a parlare degli Anunnaki forse me ne pentirò ma cominciamo a parlarne la cosa particolare quando si parla degli Anunnaki è che spesso si pensa che sia il termine complessivo con cui si indicano le divinità principali del panteon mesopotamico in generale in realtà di origine sumere come sempre con variazioni in quelle delle popolazioni babilonesi a Sire, i Tite eccetera eccetera ma la realtà dei fatti non è così perché per quanto nelle versioni un pochettino più arcaiche fra gli Anunnaki sono inclusi anche alcuni degli dei più importanti e potenti della mitologia sumere non solo, parliamo di An o Anu, parliamo di Enki, parliamo di Enlil o Inanna per esempio in realtà il nome indica un gruppo non meglio definito nel numero di divinità che varia dalle 7 alle 600 che hanno vari ruoli a seconda del luogo in cui troviamo descrizioni su di loro quindi parlare agli Anunnaki è tremendamente complesso dal punto di vista mitologico tendenzialmente Anunnaki o Anunna è il termine che sarebbe a significare la discendenza divina di An e per l'appunto indica tutti quegli dei che discendono dai grandi progenitori dal cielo e dalla terra il dio del cielo, Anu, e il dio della terra, Chi spesso identificata con un'altra dea, Ninursag l'etimologia di questo nome varia dovrebbe significare, stando a varie fonti non sto qui ad elencare tutte quante le divisioni in particelle del nome semplicemente genia o genia principesca, divina, regale di Anu o An c'è da dire però che come gruppo gli Anunnaki non hanno una vera e propria reverenza non hanno un culto stabilito per il gruppo probabilmente perché se fra gli Anunnaki c'erano divinità importantissime si preferiva celebrare la singola divinità piuttosto che tutto il gruppo degli Anunnaki e quindi non c'era un culto indi per cui che roba arcaica ho tirato fuori indi per cui non abbiamo tracce di un culto di gruppo e trovare delle caratteristiche generali per tutti gli Anunnaki è difficilissimo si può banalmente genericamente pensare che per Anunnaki si intendano tutti gli dèi del mondo sumero perché partiamo ovviamente dalla civiltà sumera per poi evolverci in Babilonia e successive e quindi condividono più o meno le stesse caratteristiche di questo o quel dio del panteon sumero sono esseri potentissimi che vivono nei cieli possono compiere miracoli grandiosi e si rivestono letteralmente di una sostanza che dà loro poteri il loro potere, la loro forma divina è come un abito che indossano e che abbiamo visto nel primo video che ho dedicato al mito sumero il mito delle origini secondo il mito mesopotamico può essere anche ceduta come si fa con un vestito dando il potere divino che si possiede a un'altra divinità è quello che succede spesso con i Nanna che si conquista poteri di altre divinità o con il babilonese Marduk molto dopo quando c'è l'ascesa del regno babilonese quindi il dio rappresentativo di Babilonia il dio custode di Babilonia Marduk diviene quello più importante del panteon mesopotamico e riceve da altre divinità tanti e tanti poteri che gli permettono poi di sconfiggere il drago primordiale Tiamat ma queste sono solo assunzioni non possiamo in realtà sapere se tra gli Anunnaki c'era una qualche caratteristica diversa e tra l'altro non posso neanche parlare del loro ruolo effettivo perché questo cambia da momento a momento da cultura a cultura e soprattutto da frammento ritrovato della cultura mesopotamica a frammento ritrovato perché vi ricordo che quello che sappiamo della civiltà delle civiltà mesopotamiche viene da frammenti spesso mal conservati che mancano di parti importanti che quindi non ci spiegano tutto al 100% purtroppo la prima menzione però del termine Anunnaki che ci è arrivata risale al regno di Gudea un periodo che va dal 2144 al 2124 avanti Cristo durante la terza dinastia di Ur in questo caso gli Anunnaki sono per l'appunto i discendenti divini di Anu e contano probabilmente sette dei i sette dei che decretano i destini del mondo ovvero An o Anu il cielo Enlil l'aria figlio di Anu della dea della terra che separa il cielo dalla terra Enki il saggio dio delle acque e delle profondità Ninursag, dea madre delle montagne e della terra che probabilmente è identificabile con la consorte di Anu Nanna o Sin che è la dio della luna Utu o Shamash che è il dio del sole e della giustizia e infine Inanna a cui è dedicato un video intero però questa è una lista solo sommaria noi non sappiamo bene quanti siano gli Anunnaki e da quello che ci è arrivato nella cultura sumera neanche i sumeri importava così tanto specificare quanti fossero gli Anunnaki probabilmente tutte le divinità più importanti del pantheon sumero erano parte di questo macro gruppo di divinità abbiamo giusto qualche menzione particolare in alcuni frammenti di poemi tipo Enki e l'ordine mondiale già cominciamo ad andare male in cui gli Anunnaki porgono omaggio e danno i loro rispetti al dio delle profondità e della saggezza e pare che ai tempi abitassero fra le persone, fra le genti di Sumer viene poi specificato ancora una volta che gli Anunnaki sono coloro che decretano nello specifico la vita e il destino degli uomini e del mondo però nella storia di Inanna che va nell'oltretomba che discende nell'oltretomba e viene umiliata da sua sorella Eresh Kigal storia di cui vi ho raccontato nel focus on su Inanna vediamo la dio dell'oltretomba Eresh Kigal, sorella di Inanna giudicare la tracotanza di Inanna accompagnata dagli Anunnaki che in questa occasione specifica non si presentano come divinità celesti ma divinità ctonie dell'oltretomba adibite a giudicare le anime di coloro che entrano nell'oltretomba e che pagano i loro omaggi, i loro rispetti alla regina dell'oltretomba stessa Eresh Kigal è stata avanzata poi l'ipotesi che gli Anunnaki potessero essere un gruppo di divinità assegnate a stelle e pianeti visibili nella volta celeste perché è noto che la maggior parte delle divinità mesopotamiche in questo caso sumere fossero assegnate a questo, quel astro del cielo per l'appunto Sin e Shamash sono la luna e il sole rispettivamente Inanna e il pianeta Venere quello che verrà dopo Marduk, che però è babilonese, sarà assegnato al pianeta Giove An, Enlil e Enki erano assegnati a tutti i corpi celesti rispettivamente del cielo equatoriale, del cielo a nord e del cielo a sud Andando avanti nel tempo e arrivando alle civiltà kadiche mesopotamiche il paradigma però va sempre di più verso il sottosuolo si abbandona la dimensione celeste e addirittura stellare per includere sempre più prepotentemente gli Anunnaki nel mondo dell'oltretomba in una versione accadica e ridotta nella storia di Inanna che discende nell'oltretomba vediamo infatti gli Anunnaki come parte integrante della corte di Reshkigal tanto che mentre Inanna sta arrivando nell'oltretomba noi sappiamo che Reshkigal dà ordine a un suo servitore Nam-Tar di preparare i seggi e riempire i calici affinché gli Anunnaki potessero presiedere al grande giudizio contro Inanna però nel vecchio periodo babilonese che va dal 1830 al 1531 avanti Cristo abbiamo la diffusione di un altro gruppo di divinità chiamate i Gigi in un primo momento il termine Anunnaki e il termine i Gigi sono sinonimi e indicano indistintamente le divinità ma concite il fatto che gli Anunnaki piano piano sono diventati sempre di più divinità ktonie in alcune varianti del mito gli I Gigi diventano divinità celesti quindi gli I Gigi sono dei del mondo di sopra gli Anunnaki dei del mondo di sotto mondo dei vivi, mondo celeste da una parte sottosuolo, mondo dei morti dall'altra poi però c'è una storia molto molto particolare che ha dato adito a un sacco di teorie non scientificamente fondate e sono tra l'altro suppongo l'incipit di trama di Assassin's Creed la storia mitologica infatti ci racconta come gli Anunnaki genericamente gli dèi del mondo mesopotamico dovessero svolgere tutti i lavori e le mansioni più umili e più faticose da soli perché non c'era nessun altro nel mondo quindi arriva una nuova generazione di dèi per alcune versioni del mito la sesta generazione di dèi chiamata per l'appunto I Gigi questo gruppo di divinità diventano sostanzialmente la bassa manovalanza degli Anunnaki che sono gli dèi più anziani e superiori solo che dopo un po' di tempo che gli Gigi stanno nelle miniere a zappare la terra, a allevare gli animali e a fare il lavoro da servitori senza nessuna retribuzione senza contratto, senza assicurazione o un sindacato che li protegga senza che nessuno versi loro i contributi e tutti che lavorano a nero perché tanto ti paghiamo invisibilità e dovresti accontentarti oggi i giovani non vogliono più lavorare Dio e l'Italia del 2023 gli Gigi si ribellano e fanno un disastro incominciano ad ammazzarsi fra di loro le divinità fra i Gigi e i Anunnaki finché arriva Enlil che fino a quel momento storico è probabilmente la divinità più importante e c'è una grossa rivoluzione gli Gigi si rivoltano agli Anunnaki e c'è uno scontro fra Trichida e Fadei e si ferma soltanto quando il dio Enki decide di fornire a entrambe le caste divine i Gigi e Anunnaki una nuova genia di servitore noi, gli esseri umani che nasciamo come schiavi degli Anunnaki e degli Gigi poi diventeremo i loro protetti e quindi vabbè sono dei sono misericordiosi però nasciamo come capi di bestiame sostanzialmente nel medio periodo babilonese però ovvero dal 1592 al 1155 avanti Cristo il termine Anunnaki incomincia a radicarsi specificatamente ad indicare un gruppo indistinto di divinità dell'oltretomba adibite al ruolo di giudici dell'oltretomba parimenti a quello che potevano essere Eaco, Minosse e Radamante nell'oltretomba greco stanno lì, accompagnano la divinità a capo dell'oltretomba a giudicare le anime dei morti ma rimangono divinità estremamente potenti e incredibilmente importanti che decidono comunque il destino dell'uomo e del mondo e tra queste divinità contiamo veramente dei nomi importanti Damkina, Nergal che è uno dei sovrani dell'oltretomba mesopotamico babilonese soprattutto sono fra gli Anunnaki lo stesso Marduk a seconda delle versioni del mito del periodo in cui ci troviamo in Mesopotamia è parte se non a capo degli Anunnaki nell'epopea di Gilgamesh Uttanapishtim descrive gli Anunnaki come le divinità sette divinità in questo caso sette giudici che hanno deciso l'arrivo dell'alluvione del diluvio universale sul mondo poi però emerge prepotentemente nel panorama mesopotamico Babilonia e il popolo babilonese diventa quello supremo fra le altre popolazioni e Babilonia aveva un dio principale che custodiva la città ed era il dio nazionale per eccellenza che è per l'appunto Marduk e alla cosmologia che di quando in quando preferiva qui Enki e qui Enlil come divinità supreme il dio delle profondità o soprattutto il dio dell'aria e del vento che separa cielo e terra Enlil arriviamo ad avere come divinità principale che nel racconto mitologico va a recuperare successione volontaria dei propri poteri da parte del dio supremo Anu e anche delle altre divinità proprio Marduk che assorge al ruolo di capo del pantheon mesopotamico in generale ma babilonese nel particolare è che quindi ha un'interazione molto specifica con gli Annunaki nel poema che racconta grossomodo la creazione dell'universo secondo il mito babilonese le Numa Elish Marduk emerge vincitore dallo scontro finale contro la dragonessa Tiamat e pare che sia lui a dare il compito ai seggi al novero degli Annunaki in versioni successive di questo mito addirittura ci viene specificato che esistono 600 Annunaki ma solo 300 di questi vivono nei cieli in una sfera celeste gli altri vivono nel sottosuolo nell'oltretomba non abbiamo altre spiegazioni e forse sono perse però questo sottolinea quanto complesso potesse essere il ruolo di ste divinità proprio per aver ricevuto i propri ruoli e i propri onori da Marduk gli Annunaki dall'alto del loro potere costruiscono un grande tempio proprio per Marduk per Ea e per Enlil nell'ottavo secolo avanti Cristo però c'è il poema di Erra che ci elenca gli Annunaki come fratelli di Nergal è una razza di divinità particolarmente avversa all'uomo un po' maligne incominciamo ad avere paura della morte a livello cosmologico a quanto pare c'è poi il riferimento a un'ennesima guerra civile fra Marduk che guida gli Annunaki e che con le sue azioni provoca un disordine tale da generare un'alluvione che costringe gli dèi che vivevano in determinati luoghi a trovare rifugio presso il tempio di Eshumesha e ciò provoca letteralmente uno scontro fra Enlil che probabilmente è il primo vero capo degli dèi nel pantheon sumero e Marduk Enlil che guida gli dèi che sono dovuti scappare del tempio di Eshumesha e Marduk che guida circa gli Annunaki perché poi gli Annunaki vengono tutti catturati e Marduk da solo riesce a fare robe per liberarli e c'è una guerra civile in corso succedono casini e va a riprendere il tema della guerra fra Annunaki e i Gigi arriviamo poi alla cultura Urrita e Ittita che ci dà un cambio ulteriore nel modo di vedere gli Annunaki gli Annunaki in queste culture sono i Titani Greci in questa visione gli Annunaki sono per l'appunto come i Titani Greci divinità rappresentative della natura lo stato grezzo senza che arrivi l'ordine a sottometterla e vengono scacciati da un gruppo di nuove giovani divinità simili agli Olimpi nel concetto quindi divinità dell'ordine della forza dell'uomo che domina la natura per l'appunto nell'oltretomba quindi gli Annunaki diventano divinità Ktonie perché vengono scacciati dai loro discendenti più giovani qui sarebbero guidati dal dio Lelwani che è in origine un dio maschio ma quando gli Urriti e gli Ittiti entrarono in contatto maggiore con le popolazioni in Sumere Babilonesi e Assire incominciò a diventare donna perché sincretizzò con le varie idee patrone dell'oltretomba fra cui Ereshkigal e quindi questo Lelwani divenne una Lelwani che assorbì le caratteristiche di altre divinità Ktonie è tutto un bordello qui gli Ittiti e gli Urriti si riferiscono a questi Annunaki che è un nome che però loro hanno preso dalle popolazioni vicine con il nome di antichi dei o dei egregi cioè precedenti divinità e non hanno un ruolo totalmente negativo come possono avere la maggior parte dei titani nel mondo greco perché c'è la storia di una minaccia cosmica ovvero del gigante Ullikumi che viene sconfitto solo quando Enki in questo caso chiamato Ea chiede aiuto a queste divinità a questi Annunaki per forgiare un'arma talmente potente da riuscire a dividere il cielo dalla terra e quindi riuscire in qualche modo a ferire questo gigante altrimenti difficilmente abbattibile anche qui il numero e i nomi degli Annunaki varia a seconda degli iscritti ma tendenzialmente per Urriti e Ittiti parliamo di otto Annunaki Aduntarri il divinatore Zulki colei che interpreta i sogni Irpitia signore della terra Nara Namsara Minki Amunki e Api ora per tutti quanti quelli che amano certe teorie relative allo spazio il video finisce qui io vi ringrazio per la visualizzazione e ci vediamo se volete al prossimo video però vi fermate qui voi amanti dei visitatori allo spazio che hanno ibridato le scimmie con i gimi degli Annunaki per fare servitori e quindi le costruzioni gli alieni le dose tutte questi argomenti se vi piacciono vi fermate qui nel video grazie grazie mille per la visualizzazione e alla prossima per tutti gli altri c'è da rimarcare un concetto la maggiore paura che ho nel parlare degli Annunaki e che hanno tutti i miei colleghi nel parlare degli Annunaki è che nella metà del secolo scorso ha cominciato a circolare una strana idea nel 1968 esce Chariot of the Gods scritto da Eric Von Daniken si parla di come gli dei sumeri in realtà gli Annunaki fossero visitatori dallo spazio negli anni successivi a Von Daniken si aggiungono altri pseudo-archeologi qui parliamo di pseudo-scienza e parliamo della teoria degli antichi alieni queste ricerche e tutto quello che hanno generato tutti i concetti per cui le divinità sarebbero alieni sono sbagliate e perché? non perché sia impossibile in un universo infinito pure io credo che esista altra vita da qualche parte quindi non è impossibile l'idea di un popolo estremamente avanzato che possa essersi fatto scambiare per una divinità improbabile ma non impossibile ma queste ricerche non hanno il benché minimo valore perché peccano di tre errori principali concetti astronomici e osservazioni delle spostamenti degli astri totalmente traviati perché in molti libri tipo Zaccaria Siccin assegna a ogni pianeta esistente nel nostro sistema solare più il famoso pianeta misterioso Nibiru che ha un'orbita particolare attorno al sole e si ripresenta ogni tot mille anni letteralmente il nome di una divinità e quindi lui vede gli scontri fra dei come scontri interplanetari solo che descrive degli scontri interplanetari così devastanti che sembrano plausibili perché vanno a ricordare la teoria per cui la luna si sia originata da quella che era in origine la terra che poi scontratasi con un altro corpo celeste ha generato ha staccato una parte di sé e ha generato un intero satellite con i detriti risultanti con il passare di migliaia e migliaia di anni ovviamente milioni in realtà ma lui descrive degli scontri così esageratamente grandi che in realtà avrebbero devastato il sistema solare così come lo conosciamo noi oggi non sarebbe rimasto veramente nulla c'è poi il secondo errore molto grave dell'estremo letteralismo letteralmente prendere la parola mitologica e portarla alla realtà come dire superman esiste e quindi c'è gente che spara raggi laser dagli occhi non si fa così perché le storie mitologiche sono metaforiche sono spesso modi poetici per spiegare ciò che non possiamo spiegare o modi colorati per dare lezioni morali persino lo scontro fra i gigi e annunaki ha una morale circa il mantenersi umili non combattere fra fratelli eccetera eccetera in realtà la lezione non è quella del hanno creato gli uomini come schiavi no è diversa la lezione poi vedere magari alcuni pittogrammi alcune rappresentazioni divine e ritrovarci i caschi spaziali dei film di fantascienza di serie Z anni 30 è un problema nostro perché noi analizziamo tutto quanto col senno di poi ma non è che siccome ricordano i caschi tutte spaziali dei film degli anni 30 dei film di fantascienza allora dobbiamo subito arrivare senza dubbio all'assunto che quelle divinità rappresentate lì siano viaggiatori dello spazio anche perché non sappiamo che forma possono avere eventuali alieni che sbagliaggiano nello spazio né soprattutto se hanno bisogno degli stessi meccanismi delle stesse precauzioni di cui abbiamo bisogno noi esseri umani per come ci siamo evoluti in questo sputo di universo che chiamiamo pianeta terra ma soprattutto l'errore più grave è quello che non si deve mai compiere quando non si è ricercatore io non sono un ricercatore non sono un antropologo io sono un divulgatore prendo le ricerche delle persone e le divulgo in maniera più o meno assorbibile a un grande pubblico motivo per cui io non scrivo saggi di mitologia io scrivo romanzi mitologici il dovere di Ade non è una ricerca mitologica è un romanzare eventi narrati da x autori nel corso degli anni con relative ricerche antropologiche alle spalle ma è un romanzo punto e fine non ha nessuna valenza scientifica perché non ho le competenze per andare a fare ricerca non ho mai fatte non ho la presunzione di scrivere dei saggi perché ho fatto un corso intensivo di ebraico antico ho un dizionario di ebraico al fianco e quindi mi posso azzardare a fare le traduzioni di antiche tavolette antichi testi ebraici con la presunzione di avere ragione io no se tu non hai studiato per bene tutte le sfumature di una lingua non puoi capirla al 100% non ti basta il dizionario per fare la traduzione rapida dall'ebraico all'italiano ecco perché i testi di un von Daniken un Sic in un bilino non sono scientificamente accurati banalmente perché loro non sono ricercatori che hanno seguito il metodo scientifico se hai fatto un mese di corso e c'hai un dizionario di ebraico antico e ti credi di poter interpretare la i testi sacri ebraici meglio di chi ci passa la vita a imparare la lingua sei solo presuntuoso e pecchi di ignoranza fine ora io questa parte l'ho resa il più pacata possibile rispetto a quanto feci abbreviandola tanti anni fa nel video sul mito delle origini secondo la civiltà mesopotamica il mito mesopotamico sono stato molto più pacato di allora ma la mia opinione di allora rimane detto questo ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione se vedrete i commenti bloccati a un certo punto saprete perché siete arrivati fino a questo punto hashtag dei alieni se siete arrivati fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo video bye e che gli annunachi me la mandino buona perché altrimenti non mi mandano il sussidio di carne di rettiliano questo mese come mi avevano promesso che poi sti potili forti per accontentarli ci vuole sempre un sacco di fatica tutti i messaggi subliminali nel libro del dovere di ade per invogliarvi a comprare sigarette poi poi si lamentano poi rocci si lamentano dai su dai